Comandante, la stagione estiva si sta avvicinando, manca ancora qualche mese, ma vi state già preparando a questo momento che vi vedrà come sempre in prima linea? Assolutamente sì, ormai manca poco alla stagione balneare, su input della direzione marittima della Liguria ci stiamo già muovendo in tal senso. L'anno scorso abbiamo operato in due modi, sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista della prevenzione con anche conferenze che abbiamo fatto presso le scuole e comunque con gli utenti proprio del mare, abbiamo visto che comunque è servito e quindi sicuramente lo riproporremo anche per quest'anno. E naturalmente oltre all'attività di prevenzione poi l'attività operativa che ci vedrà sicuramente coinvolti nel corso della stagione balneare. Ci sarà sempre il discorso del famoso bollino blu? Ma anche su questo aspettiamo maggiori chiarimenti e devono arrivare ancora delle direttive di dettaglio, ma sicuramente verrà riproposta questa iniziativa. Abbiamo visto che l'anno scorso comunque ha avuto un grande successo e quella che è l'iniziativa, comunque diciamo dal punto di vista anche per quest'anno probabilmente verrà riproposta. Ricordiamo di cosa si tratta. Sì, il bollino blu è una sorta di, diciamo veniva rilasciato all'atto del controllo, proprio un attestato che non faceva altro che certificare la sicurezza dell'unità. veniva rilasciato questo bollino blu, che insomma permetteva sostanzialmente al proprietario dell'unità di porto di poter navigare e di non subire, tra virgolette, di non ricevere alcun controllo supplementare da parte di altre forze di polizia nel caso in cui naturalmente non ci fossero delle situazioni particolari o comunque delle ragioni particolari. Parliamo dei fondali del porto di Sanremo, com'è la situazione e se avete fatto alcune richieste, so, in tal senso. Sì, per quanto riguarda i fondali del porto, insomma le batimetriche, si può immaginare come siano importanti, come siano determinanti per un discorso di sicurezza. Noi abbiamo già inoltrato delle richieste ufficiali all'amministrazione comunale, al comune di Sanremo, per cercare proprio di verificare allo stato attuale quelle che sono le batimetriche. Batimetriche che dovranno però naturalmente essere effettuate secondo un disciplinare tecnico che è edito dall'Istituto Geografico della Marina, proprio perché questi dati che insomma vengono poi presi, comunque ricavati dall'attività proprio operativa di controllo del fondale, poi possono essere riutilizzati dall'Istituto Geografico della Marina per aggiornare ad esempio quelle che sono le carte nautiche. Quindi in vista di quello che è il traffico corceristico direi che è assolutamente determinante capire allo stato attuale quelle che è il fondale, la misurazione e la quota del fondale all'interno del porto di Sanremo.